Capire le ragioni degli altri, ecco questa è una grande lezione di Nilde Jotti, gli avversari politici mai vissuti come nemici, un messaggio che è valido sempre. Grazie al Presidente Fico e ora sentiremo Laura Boldrini che è stata già Presidente della Camera dei Deputati. In questo 2020 in cui si celebrano i cento anni di Nilde Jotti è importante ricordarla per quello che lei ha rappresentato nella storia politica del nostro Paese, dunque non solo per essere stata per ben tre volte Presidente della Camera ma per tutto il resto, anche tutto il resto. Lei fu partigiana, fu madre costituente e fu una dirigente politica con veramente un ampio raggio di interessi. Ecco è giusto in questo frangente ricordare anche che fu determinante il suo sostegno alla emancipazione delle donne nel nostro Paese, così come il grande supporto che diede alla battaglia per il divorzio. Ecco, Nilde Jotti è stata anche una figura che non si è mai tirata indietro, io direi che è veramente una figura tra le più prestigiose della storia repubblicana a cui ispirarsi. Io purtroppo non l'ho mai conosciuta, non l'ho mai conosciuta ma ho sentito parlare di lei tanto e nei miei cinque anni alla Presidenza della Camera, nei momenti più complicati, a volte mi sono chiesta ma che avrebbe fatto Nilde Jotti? Ecco, i consiglieri più anziani mi raccontavano che nelle questioni regolamentari era veramente molto attenta e che a volte aveva anche dei vivaci scambi col suo stesso partito. Ora, per me è stato un grande onore chiaramente essere in quella posizione di Presidente della Camera molti anni dopo e ho pensato che fosse giusto dedicarle una sala a Montecitorio, così come a Montecitorio ho voluto dedicare una sala alle madri, alle madri della nostra Repubblica perché purtroppo non ce n'era traccia e allora ho inaugurato la sala delle donne nel 2016 con i ritratti delle madri costituenti, delle prime sindache e appunto tra le madri costituenti c'è anche il bel ritratto di Nilde Jotti nel giorno in cui venne eletta appunto terza carica dello Stato. Era la prima volta nel nostro paese. Allora io ringrazio, ringrazio la fondazione, ringrazio Livia Turco per quello che stanno facendo e per ricordarci che era Nilde Jotti, la grande Nilde Jotti.